L'On. Luciano D'Alfonso si è espresso questa mattina in conferenza stampa in merito all'utilizzo di 15 milioni di euro per il prolungamento dell'asse attrezzato ottenuti a seguito di Delibera Cipe numero 25 del 2016. È inoltre critico il suo giudizio sull'emendamento da 7 milioni di euro approvato e compreso nell'ultima legge di bilancio approvata dal Parlamento il 29 dicembre scorso. Oggi l'argomento riguardante la nostra conferenza stampa è duale. Da una parte c'è la norma approvata dal Parlamento in occasione della legge di bilancio che si vuole fare carico dei problemi risalenti degli espropri che sono stati attivati e realizzati per consentire la nascita dell'asse attrezzato Chieti-Pescara. E poi come secondo argomento collegato l'allungamento dell'asse attrezzato fino al porto di Pescara. Ci sono due finanziamenti. 14 milioni di euro per il biennio 23-24 per cominciare a definire gli espropri dell'asse attrezzato. E poi 15 milioni di euro dal 10 agosto del 2016 per determinare l'allungamento dell'asse attrezzato fino al porto di Pescara. L'emendamento approvato purtroppo di spinta governativa se fosse stato il Parlamento con i deputati territoriali sarebbe stato scritto meglio l'emendamento. L'emendamento io devo qualificarlo come un bicchiere di acqua San Gemini che non è zero. Purtroppo non risolve i problemi. Adesso dirò perché. La norma stanzia per il 23-7 milioni e per il 24 altri 7 milioni. A questo momento servirebbero, secondo i documenti degli uffici tecnici che hanno fatto l'istruttoria, parlo del Ministero dei Lavori Pubblici, 14 milioni 588 mila euro. Invece saranno 7 milioni quest'anno e 7 l'anno prossimo con un difetto di copertura economica che farà aumentare ulteriormente gli interessi correnti quando c'è un diritto di risarcimento del tipo di quello di cui stiamo parlando. Il secondo problema è che viene citata nella norma di quattro righe, una norma che io qualifico stitica. Una norma che dice che sarà l'ANAS a procedere, ma non si capisce in che direzione. Dobbiamo fare in modo che l'ANAS, se diventa proprietaria dell'intero dell'asse attrezzato, poi non riparta con l'operazione del 2010 della pedagizzazione dell'asse attrezzato.